Il Vespa Club e il Ciao Club di Ponte d'Era dedicano questo giorno il 9 giugno del 2019 alla commemorazione di Gastone Castellini che era un collaudatore pilota piaggio sepolto nel cimitero della misericordia di Ponte d'Era successivamente verrà fatta tappa a Varramista quale ubicazione delle spoglie del dottor Enrico Piaggio. Al termine della giornata sarà rievocata la partecipazione delle Vespe della Parigi Takara attraverso le testimonianze riportate dai personaggi che hanno vissuto direttamente l'evento. Auguro una buona visione a tutti quanti. Grazie a tutti. 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 a tutti.